Cari amici, uno dei titoli più belli di questa settimana passata è questa, La società dei magnaccioni, è una vecchia canzone romana, ma rende esattamente l'idea di che cosa sia stato scoperto. Oh, attenzione, scoperto formalmente, nemmeno al grande pubblico, perché il grande pubblico a Roma, queste cose, se le sapeva, tutti a fare come i famosi bambini di Povia. La cricca pseudomafiosa è l'immagine di sempre, di ogni luogo e di ogni epoca, specie ovviamente nelle grandi città. E c'era a Roma la cricca nelle lotte, lo sapete perché ve ne ho già parlato un'altra volta, tra Catilina e Cicerone, poi ci sono state le lotte tra papisti e antipapisti, Guelfi e Ghibellini, per arrivare, non gli ultimi, ma insomma recentemente, in senso storico, tra Garibaldini e cattolici, e poi tra democristiani e comunisti. E perché oggi non dovrebbe esserci la cricca tra la pseudo-destra e la pseudo-sinistra? Soprattutto se il fatto importante è uno, che il bottino di queste guerre sono i soldi nostri. E' quello il fatto. Dobbiamo noi cambiare per primi, perché è ora di finire la specie con i modelli che certa televisione, certa informazione impone. E paradosso dei paradossi, e questo prendetela come una battuta, ma non so quanto lo sia realmente, pare che la vera mafia, quella onorata società, abbia diffidato i mass media da chiamare mafia quella manica di ladroni. Eh sì, perché la mafia, l'onorata società, aveva dei valori. Questi, gli unici valori che erano, che avevano, erano i valori economici, il danaro. Cosa volete che gliene fregasse? Dei Rom, degli immigrati, dei tossici. Non gliene fregava niente a nessuno. Ma da questa telecamera, quanto tempo è che me lo sentite dire? Che su quella gente ci sono dei negrieri, appunto negrieri, come si diceva un tempo, che sfruttano come nuovi schiavi questa gente. Ecco, questo sta accadendo. Adesso, fate un po' oh, ma ricordatevi una cosa, specie, lo dico in un orecchio, ai nostri politici, che dicono bisogna fare chiarezza. Sì, prendete esempio dalla Cina. arrestato Zhu la Tigre, era il capo dei servizi segreti della Cina. Eh sì, era stato arrestato perché aveva rubacchiato qua e là. Ce ne sono stati 200 condannati a morte perché avevano rubacchiato, avevano corrotto qua e là. lì non fa notizia, sono oltre un miliardo e mezzo quanti sono, per cui uno più uno meno non ha importanza. Da noi sarebbe stato uno scandalo. Da noi si hanno arrestato una decina di star della televisione, di presentatori per sesso, droga e corruzione. Eh, da noi non ci sarebbe più nessuno in televisione? Non lo so, come l'ha pensato? Fatemelo sapere.